Mi chiamo Greta e sono laureata in Ingegneria per la Sicurezza del Lavoro e dell'Ambiente. Ho scelto questa facoltà per i numerosi sbocchi lavorativi che avrebbe potuto offrirmi ed effettivamente non sono rimasta delusa. A meno di un mese dalla laurea ho infatti trovato lavoro nell'Ufficio Ambiente e Sicurezza di una grande azienda, lavoro che continuo a svolgere ancora oggi. Mi ritengo pertanto soddisfatta della mia scelta e consiglio questa facoltà per tre ragioni. Per le materie molto professionalizzanti, perché ciò che ho studiato in università mi è davvero servito e mi serve ancora oggi sul lavoro? E perché questa facoltà è stata fondata da alcuni professori che conoscerete nei tre anni e che aggiornano il corso per renderlo sempre più in linea con quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro, per offrire maggiore opportunità agli studenti.